Allora amici di Teleumens, siamo qua ai test con Barco Buonanomi per la Isotta Fraschini Tu hai corso con LMPU, com'è la differenza con una ipercarca? Allora sinceramente non è tantissimo Il sistema ibrido che è presente, che abbiamo adesso sull'Isotta e anche sulle altre ipercarca che abbiamo già nel campionato, è molto simile, quindi non c'è stata una grossa evoluzione a livello sistemi ibridi Sono cambiati un po' i regolamenti, quindi il peso è più importante adesso, quindi le macchine più pesanti un po' meno di aerodinamica, quindi sicuramente quello si sente però ecco, a livello guida è molto molto simile Ok, ma senti comunque queste differenze di peso? Cioè come si fa a sentire in curva? Come reagisce la macchina? Sì, ovviamente senti più massa da portare in giro, quindi magari sai sono piccolezze che però magari se guardi nei dati percorrenza in curva minima, in centro curva magari ci sono 3 o 4 km di differenza, ma da un anno all'altro fai fatica a sentirli ecco, dovresti avere le due macchine Paragonate Cioè provandone nello stesso giorno e sentire Quindi a proposito di questo, nel tuo lavoro di sviluppo in questo caso, su che cosa vi state concentrando di più? Ma adesso, prima di tutto, è il primo vero test che il team sta svolgendo qui a Monza hanno avuto un bel roll out a Vallelunga però ecco, questo è il primo vero test dove si è messo tutto insieme, tutti i sistemi attivi e quindi sicuramente c'è la prima parte tutta di fase valutazione, calibrazione, sistemi non sono pochi e quindi è abbastanza lunga e infatti abbiamo tutti i tecnici anche stranieri tedeschi della Bosch per il CWA, per il motore quindi c'è tanta gente che ci lavora, ci vuole un po' di tempo per analizzare i dati e quindi siamo ancora in una fase di calibrazione e understanding della vettura, del bilanciamento e con tutti i vari sistemi che interagiscono tra di loro Provo a spingere ovviamente un pochettino perché comunque finché stai nella finestra troppo safe alcuni problemi o malfunzionamenti non vengono fuori comunque si spinge sempre ma non cerchiamo ancora performance ecco a proposito, piccola curiosità come cambia il mindset da quando dici ok, devi entrare in pista, spingere al massimo e vedere fino a dove posso arrivare con la macchina dove è il limite e quando invece hai un tipo di lavoro diverso quindi non devi spingere fino a quel punto lì ma devi proprio stare ad essere più concentrato su sentire, capire e quindi tenerti anche dentro quel certo limite allora diciamo sì, c'è questo switch di guida, di concentrazione che appunto quando fai questa parte qui di analisi, sviluppo ti tieni un minimo di margine, non è tanto però te lo tieni e ovviamente cerchi di essere molto più sensibile su qualsiasi cosa succede in ogni punto della pista sia in fase frenata, centro curva, uscita col gas, quindi cerchi di acquisire più dati possibili mentre in una situazione di qualifica quando devi proprio spingere sai che c'è tutto al 100% lì pensi solo alla performance al punto di staccata e anche se c'è qualcosa che magari non ti torna comunque andare oltre allora ultima domanda per Marco e poi ti lasciamo appunto al recupero per poi la seconda parte di test piccola curiosità che i nostri lettori ovviamente vorrebbero sapere come funziona il volante, che funzionalità hai? vediamo un sacco di manettini lo sto scoprendo anch'io perché l'ho visto per la prima volta ieri praticamente tra l'altro è leggerissimo sì, è abbastanza leggero come vedete ci sono tante funzioni, tanti bottoni, tre multi questo è il multi centrale dove apre tante finestre, tante regolazioni dei vari sistemi appunto hai mille combinazioni però diciamo questi i bottoni più classici della radio push to pass, flash, high beam il pit, lo start per il pit stop veloce della gara fu il corsiello quando c'è qualche condizione appunto di incidenti che direi in maniera 80 km orari drink però alcuni adesso non funzionano ancora perché non è ancora completa al 100% ma ecco è fatta un po' così e poi questi importanti sempre multi ma un po' nascosti quindi insomma ti serve un po' ancora il tempo per imparare sì esatto noi stiamo ancora facendo il drivers manual quindi non c'è ancora un libro da studiare e diamo un po' un sentimento bello va bene ragazzi noi ringraziamo Marco e in bocca al lupo per il resto del test quindi ragazzi continuate a seguire Isotta e Marco e ci vediamo per il prossimo video grazie grazie mille grazie infinite grazie infinite